La guerra civile poi fu vinta dai rossi e l'Ucraina rientrò come Repubblica Sovietica dentro l'Unione Sovietica dopo il 1923 quando ufficialmente nasce l'Unione Sovietica, serbando però sempre una posizione potremmo dire privilegiata dal punto di vista dei rapporti internazionali, meno privilegiata dal punto di vista della pressione interna. Tant'è vero che quando nel 1941 i tedeschi invadono l'Unione Sovietica a sorpresa il 21 di giugno del 1941, l'Ucraina spalanca le porte ai nazisti e collabora attivamente al massacro degli ebrei ucraini che vengono praticamente estinti. L'antisemitismo da quelle parti è stato fortissimo, fra l'altro pare, io non sono uno studioso che si sia dedicato specificamente ai famosi protocolli dei savi di Sion, ma la tesi più accreditata è che quel testo, quel falso notorio antisemita sia nato proprio in Ucraina per opera di una parte della polizia politica zarista dell'Ucraina. Cioè è una tradizione che del resto anche la Polonia ha avuto quando venne fuori quel libro di Bendersky, che in Italia non è mai stato tradotto, ma negli Stati Uniti ha avuto un grande successo, in cui si documentava che certo i tedeschi in Polonia hanno fatto un massacro di ebrei inaudito avendo manforte da moltissimi polacchi antisemiti. Va bene, questa è la tragedia della Seconda Guerra Mondiale di cui spesso poi si parla in maniera soltanto retorica. Ciò ha determinato alla fine del conflitto una situazione in cui l'Ucraina conserva una posizione privilegiata, ha un suo seggio autonomo alle Nazioni Unite, fra l'altro, però è sotto pressione dal punto di vista politico, nel senso che le vendette contro i collaborazionisti filo tedeschi sono durissime e chi ebbe il compito diciamo di rimettere in riga un paese che si era alleato convintamente col Führer, tanto da costituire la legione ucraina delle SS che ha infierito in Italia, ho conosciuto un professore di Bolzano, Berto Perotti, che è stato torturato in campo di concentramento vicino a Bolzano nel 44 dagli SS ucraini, che erano i più feroci rispetto agli stessi tedeschi. Va bene, questo non vuol dire che tutti gli ucraini siano antisemiti e filo nazisti, ma sono fattori che nella storia pesano naturalmente e non finiscono la memoria, il ricordo di queste vicende non finiscono così rapidamente. Ora, durezza estrema fu Khrushchev che era segretario del partito comunista in Ucraina, colui che doveva rimettere in riga il paese. Al tempo stesso, come dicevo, Bielorussia e Ucraina hanno alle Nazioni Unite un seggio accanto a quello dell'Unione Sovietica, per cui i sovietici praticamente contano su tre seggi e quando il consiglio di sicurezza nel 47 dovette affrontare il tema nascita dello Stato di Israele, i tre voti dell'Unione Sovietica, Bielorussia e Ucraina e il quarto voto della Cecoslovacchia furono determinanti per la nascita dello Stato di Israele, che invece l'Inghilterra non voleva, infatti si astenne. Per un soffio passò la nascita di Israele come statualità autonoma alle Nazioni Unite perché, come ha scritto uno storico russo vivente, molto giovane, Stalin creò Israele, che è un paradosso può sembrare, ma in realtà è una verità storica. Dopo la fine dell'Unione Sovietica il governo ucraino è stato a lungo un governo amico. 2014 c'è di fatto un colpo di Stato, non è gradito dirlo o sentirselo dire, che rassomiglia perfettamente al colpo di Stato per cui Al-Sisi è diventato presidente dell'Egitto. In Egitto i fratelli musulmani avevano vinto le elezioni. Il loro capo era diventato presidente dell'Egitto. Grandi manifestazioni di massa, eroiche eccetera eccetera. Viene cacciato a furor di popolo il governo, che peraltro era stato eletto dai cittadini egiziani, e arriva il generale Al-Sisi, col quale noi abbiamo ottimi rapporti e ci sembra un grande democratico. Non voglio soffermarmi sulle sue qualità, gli forniamo armi a non finire, è un super protetto dagli Stati Uniti. L'operazione Kiev fu la stessa, la piazza Maidan per la quale tanto abbiamo lacrimato dicendo eroismo di massa eccetera, ha buttato via a furor di popolo un presidente Yanukovic che era stato eletto. Va bene, quello si chiama colpo di Stato. In Ucraina è andata così e dopo gli effetti sono stati drammatici, cioè progressivamente l'impegno a mantenere l'Ucraina fuori dell'Alleanza Atlantica è stato messo in discussione e il de quo della guerra attuale purtroppo è proprio questo. Dopodiché il fatto di procedere mano militare ad un'invasione si espone a critiche giustissime in nome del diritto internazionale, ma è ovvio che chi voglia capire gli avvenimenti si deve porre anche il problema del perché questi avvenimenti si producono. Il fatto di questo pacato a mio modo di vedere è che metteva in evidenza problemi seri dei quali nonostante la macchina pseudo informativa siamo tutti consapevoli, anche coloro che tale macchina dirigono, per il fatto stesso che esercitano la censura e dimostrano di pensare esattamente quello che noi stiamo dicendo, altrimenti non eserciterebbero la censura. Anche contro personaggi che vengono dal loro mondo, a me ha fatto una certa impressione notare, e temo che sia una forma di censura, l'assenza del commento domenicale di Sergio Romano sul Corriere della Sera, che ormai da tantissimo tempo era lì. O meglio, ho notato un fenomeno di progressivo ridimensionamento di lui. Romano è stato in anni 70-80 profondamente atlantico, non ci dimentichiamo l'episodio direi abbastanza traumatico, quando egli era ambasciatore a Mosca della Repubblica Italiana e Demita, presidente del Consiglio, va a Mosca con una delegazione essenzialmente economica per firmare una serie di accordi, contratti, ne faceva parte anche Neri Onesi, che allora era il presidente della BNL, una banca importantissima. Romano protestava contro questo avvicinamento dell'Italia all'Unione Sovietica e non si presenta al aeroporto, cosa gravissima perché l'ambasciatore deve essere presente se arriva il presidente del Consiglio del suo paese, va bene, e infatti fu subito allontanato da quella carica, invitato a dimettersi, perché un po' la tecnica poi è quella, non che uno viene cacciato, ma viene invitato a dimettersi. Come è successo al predecessore del generale Figliuolo, quel tale, adesso mi ricordo il suo nome, che aveva il compito di coordinare i vari interventi per il coronavirus, Draghi, appena diventato presidente del Consiglio, lo ha convocato e gli ha ordinato di dimettersi. Cioè non ha detto io ti cazzo. Cosa? Arcuri. Arcuri, sì, appunto, è un nome che può sfuggire, poi noi studiando storia incrociamo talmente tanti nomi che alcuni poi ce li perdiamo, poi li ricoperiamo. Ma non era così rilevante. Ora, Romano costretto ad andarsene, ma in fondo era consapevole della gravità della sua scelta e però poi ha continuato nel corso del tempo, sia come collaboratore di Panorama, poi collaboratore, su una pagina fissa sul settimanale Epoca, a manifestare la sua fede atlantica. Dopo il 91, quando cessa di esistere l'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica perde la guerra fredda, la guerra fredda è durata molto più di tante guerre calde, l'Urs l'ha persa e i vincitori hanno proclamato questo successo, ma Romano, un uomo acuto, ha cominciato a scrivere nella pagina che quotidianamente occupava nel Corriere della Sera che la Nato a questo punto è superflua, non c'è il nemico, l'alleanza è difensiva, ergo non ha ragione d'essere. E poneva poi continuamente la questione dell'incompatibilità tra una Unione Europea che si prospettava come realtà politica, non soltanto come moneta unica, e la Nato come vero tutore. Io ricordo i suoi interventi molteplici su questo terreno che davano un po' noia, perché gli atlantici poi non perdonano. Forse vi ricordate l'uccisione di Salvo Lima improvvisa a Palermo? Andreotti, uomo acutissimo, che era il patron di Salvo Lima, disse ma forse gli americani mi hanno voluto mandare un segnale, disse Andreotti. Il segnale loro lo danno quando qualche d'uno che era considerato schieratissimo, fedelissimo, comincia a eccepire. Andreotti al tempo della crisi di Sigonella si schierò in una maniera che non piacque ai sacerdoti dell'atlantismo. Ora, da ultimo, Sergio Romano è stato detronizzato, gli hanno tolto la pagina quotidiana, l'hanno data ad un altro che è molto meno significativo. Allora è stato ridotto ad una rubrichetta domenicale, spesso relegata in posti invisibili, nella quale rubrichetta lui continuava a dire, per esempio, che l'Europa, se vuole avere un senso, deve assolutamente svincolarsi dal patto che la condiziona, ma perché questo patto è fatto essenzialmente in funzione di due gangli, il segretario generale della Nato, che viene nominato su gradimento degli Stati Uniti d'America, il comandante militare della Nato, il capo di Stato maggiore della Nato, che deve essere per forza un generale americano. Allora, in queste condizioni, l'Unione Europea ingabbiata dentro la Nato, è chiaro che è un Gulliver legato da mille legacci e reso immobile, privo un gigante incatenato, per l'appunto, come mi è capitato di definire l'Unione Europea. Allora, con la guerra lui si è trovato in una certa difficoltà, ha scritto un pezzettino in cui, cercando di dire e non dire, ha istituito un raffronto tra l'invasione dell'Ucraina e l'invasione dell'Etiopia nel 1935, però poi contemporaneamente intervistato dal medesimo giornaletto locale di cui abbiamo parlato all'inizio, ha detto l'esatto contrario, cioè ha detto che la Nato è inutile e le responsabilità della guerra ricadono su Biden soprattutto, che ha voluto accelerare i tempi fino ad arrivare a un punto di rottura. Dopodiché, domenica scorsa, non c'è più. Non so se sta poco bene, non saprei, mi sembra un uomo di grande tenace e serietà. E' un altro segnale questo, evidentemente. Ma nello stesso quotidiano c'è l'abitudine di mettere un paio di articoli di fondo, no? E' curiosa l'abitudine, di solito l'articolo di fondo è uno, che esprime più o meno la linea del giornale. Ci ce ne sono due, quindi non so, per esempio arriva Panebianco e ci spiega che ormai c'è il nemico interno. Bisogna fare il catalogo dei nemici interni, che siamo forse noi altri, non lo so. E poi però anche persone di senno o da senno, le quali però sono costrette a fare prima un preambolo. Io mi riferisco a uno bravissimo che si chiama Venturini. Venturini è uno molto esperto di politica europea, tedesca in particolare, il quale non più di tre giorni fa, quattro giorni fa, finalmente ottiene di figurare nel fondo, in prima pagina, quindi i primi venti righi sono lo zar criminale, Putin, una litania, diciamo, d'obbligo. Poi però il resto dell'articolo, che è nelle pagine interne, dice Zelensky è un folle perché pretende dalla Nato un passo che ci porta dritto alla guerra nucleare. fermatelo in tempo. Allora, se anche un collaboratore di rango di questo quotidiano è costretto prima a fare la litania d'ingresso, perché altrimenti l'articolo non passa, e poi finalmente mettere dentro il concetto principale, vuol dire che anche lì c'è una situazione di verità coartata, è sgradita o addirittura respinta. Non vorrei pensare che il pezzettino di Romano sia arrivato in redazione e sia stato respinto, spero di no, spero che non sia stato proprio scritto, però ho qualche dubbio in proposito. Quindi il quadro che tracciava Preterossi, che io condivido perché è fondato su dati di fatto, induce a porsi effettivamente la domanda che Venturini è riuscito a infilare in questo articolo di fondo, e cioè davvero dobbiamo oggi, Zaia, presidente della regione Veneto, ha smesso definitivamente di parlare di Covid e ha lanciato un appello a fare il catalogo dei rifugi anti-atomici presenti nella regione Venezia, del Veneto. Ora, siccome non è un pazzo, conosce evidentemente qualche elemento, diciamo di informazione o di allarme, che lo induce a esprimersi in una maniera certo non rassicurante per i cittadini di cui egli è presidente. Allora la questione è molto più seria di quanto i nostri giornali ci vogliano far credere, mettendo avanti soltanto il disastro umanitario, che peraltro, va detto senza ombre di cinismo, a sua volta va sulle spalle di un personaggio come il presidente Zelensky. Mi è capitato ieri, per puro caso, essendo io poi scarsamente incline a fare il telepaziente, di assistere a uno spezzone di dibattito in cui una persona che si chiama Palombelli, piuttosto glaciale, faceva domande, c'era Violante, quello che a suo tempo fece arrestare Edgardo Sogno come golpista, poi fece marcia indietro in Sordina, poi c'era il vecchio Vittorio Feltri, a Rampini, Rampini che è ossessionato dalla Cina, per cui vede cinesi dovunque. Anche questa guerra in realtà giova alla Cina, la sua teoria è la Cina gioisce perché i due avversari si stanno logorando a vicenda e quindi quello che una volta, ai tempi dei tempi in America, era il pericolo giallo, quindi Rampini è ossessionato dal pericolo giallo. E va bene. Però straripa sul Corriere della Sera, paginate di due metri per cinque, un'enormità difficile da leggere per intero, anche se talvolta interessanti qua e là, ci sono, come dire, lo spirito spira dovunque, a mio modo di vedere. Bene, il povero Feltri, che è uno poi che non va molto per il sottile, ha detto sì, io soffro moltissimo a vedere queste scene di dolore, ovviamente come tutti, eccetera. Dico semplicemente che Zelensky la deve smettere perché se lui continua a fare l'oltransista, porta il suo popolo al macello. Violante interviene e dice di dignità si può anche morire. Dulce et decorum est. Siamo ridotti a questo. Va bene. Allora, se una persona che ha presieduto la Camera dei Deputati, che ha arrestato ingiustamente Degardo Sogno, che ha fatto una lunghissima carriera politica nel partito cosiddetto democratico, dice, e sa benissimo che le parole hanno un peso, che dobbiamo prepararci a morire per la dignità, questo mi fa pensare che anche lui, come Zaia, sappia qualcosa che noi ancora non sappiamo. Il lavoro che fanno gli organi di informazione serve a quello, cioè a impedire che affiorino alla coscienza delle persone domande di questo tipo. Se io ossessiono il telepaziente, il lettore di giornali, esclusivamente con una miriade di notizie, talure vere e talure no, di carattere drammaticamente umanitario, evitando radicalmente ogni riflessione che vada al fondo delle questioni, dei problemi, io ho reso ottusi i cittadini pronti soltanto a deplorare, a urlare, a piangere, a deplorare e basta. Quindi la macchina non è mai successo, direi, ma neanche ai tempi della guerra fredda. Ai tempi della guerra fredda, certo, c'erano i giornali schierati in maniera violenta, anticomunista, eccetera, però c'erano anche giornali o settimanali che si pretendevano pensanti, non omologati, certo, ultracritici verso il socialismo reale, cosiddetto, non so, il mondo, l'espresso, la voce repubblicana. Quindi questa totalitaria occupazione delle coscienze cui stiamo assistendo prima in pro del governo di emergenza e ora in pro del deplorare il conflitto, anzi invocarne uno più grande, va bene, è un'esperienza nuova, certo, che rassomiglia a periodi storici che speravamo di avere completamente alle spalle. Al punto che io comincio a chiedermi se tra dodici mesi noi andremo veramente a votare, perché ormai sono dodici mesi, perché si è votato nel marzo del 2018, quindi allungare la legislatura oltre i cinque anni già sarebbe piuttosto singolare, quindi la data delle elezioni dovrebbe essere entro il 18 di marzo che fu la data allora praticata. Sono pochi, dodici mesi sono pochi, specie in una situazione di questo genere. Quindi comincio a chiedermi se come al gennaio 2021 ci fu detto che era assolutamente impossibile andare a votare, diversamente da quello che si era fatto in Portogallo, in America e in non so più quanti altri posti del mondo, non verrà fuori qualche motivazione per cui no, meglio no. Oltretutto Draghi ha avuto la delusione di non poter essere Presidente della Repubblica e io non so se un voto allo Stato puro, diciamo così, tra dodici mesi possa creare una maggioranza parlamentare pronta da capo a mettere lui a capo del governo, mentre il posto al Quirinale lo assicurava per sette anni, non solo, è in una modificazione di fatto della Costituzione italiana per cui il Presidente della Repubblica diventa debordante rispetto alla correttezza, diciamo così, o alla grammatica istituzionale durata per tantissimo tempo. Quindi anche il fatto che lui, deluso di questo smacco, di questa mancata elezione, non pretenda di rimanere di sicuro al governo e può rimanere soltanto con questo Parlamento, che il prossimo è un busillis, cosa possa essere, con la scomparsa o quasi dei Cinque Stelle, la legge elettorale con i collegi ridottissimi, col taglio dei parlamentari, può riservare sorprese tali per cui magari ci troviamo un Salvini Primo Ministro, cosa certamente non entusiasmante, e quindi la cosa migliore è trovare un motivo per non votare. Magari voteremo, non lo so, ma domanda me la sto ponendo su questo delicato problema. L'altra questione, cosa avrebbe dovuto fare il nostro governo? Beh, mi ha colpito un paio di episodi nei primissimi giorni della crisi. Nei primissimi giorni della crisi Draghi aveva annunciato una sua visita a Mosca. qualcuno gli ha ordinato di non andarci più e lui non c'è andato. Ci ha mandato invece lo sproveduto Ministro degli Esteri, il quale si è recato lì e è tornato e ha detto ho accertato la volontà di pace del governo russo. Lo hanno metaforicamente schiaffeggiato quando è tornato, ma lui l'implume non si rendeva conto di quello che diceva, per cui ha dovuto dire l'esatto contrario dopo 24 ore e ora sta tuonando quotidianamente con qualche gaff supplementare che a lui non manca mai di compiere segnali di una totale mancanza di indipendenza e quindi di possibilità di contare sul piano diplomatico. E sul piano diplomatico invece ci sarebbe una urgenza che un vero governo libero di potersi esprimere senza guardare oltre Atlantico dovrebbe porre subito all'ordine del giorno una conferenza per la sicurezza in Europa. È urgente che da qualche parte venga fuori una proposta incalzante in tal senso. L'analogo di quella che fu nel 1975 la conferenza di Helsinki. va bene ovviamente la risposta può essere data ma siamo di fronte ad un'invasione e va bene. Siccome sono piuttosto anziano mi ricordo benissimo situazioni nelle quali questo argomento non ebbe da benché minima rilevanza pratica né ebbe molta propagandistica. 3 novembre del 1956 non parlando quindi in tempo remoto in quel momento avvennero due invasioni non una. L'Ungheria era uscita dal patto di Varsavia alcuni giorni prima su iniziativa del governo Nodge e del suo ministro della difesa che si chiamava Paul Maleter quindi l'Ungheria esce nel 1956 dal patto di Varsavia che era nato pochi mesi prima nel 1955 l'esercito sovietico invade l'Ungheria e mette al governo Kadar deplorazione 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 contemporaneamente gli eserciti inglese e francese invadono l'Egitto sbarcano dall'aria a Porto Said sul canale e fanno macello l'esercito egiziano era totalmente impreparato e il rischio era che questi arrivassero al Cairo in quel caso in quell'occasione avvenne il cambio di fronte dello Stato di Israele che era stato invece molto vicino ai potenti alleati che l'avevano fatto nascere una decina ad anni ad anni prima quindi ben due invasioni variamente deplorate cosa successe all'epoca il presidente Eisenhower non si rivolse al governo sovietico che allora era diretto da Nikita Khrushchev ma minacciò il capo del governo inglese Anthony Eden di immediate rappresaglie sulla sterlina se l'Inghilterra non ritirava immediatamente le truppe da Porto Said e dal canale di Suez cosa che l'Inghilterra fece piegando il capo e definitivamente siglando la fine dell'impero inglese quale era ancora sognato da alcuni dirigenti soprattutto del partito conservatore quindi dinanzi a invasioni che palesemente violavano il diritto internazionale sia quella dell'Ungheria perché l'Ungheria ormai non era più un paese fatto di Varsavia era un paese neutrale esterno sia quella dell'Egitto furono poi risolte politicamente se noi continuiamo a contemplare gli articoli del diritto internazionale dicendo oibò e chiedendo al Padre Eterno di lanciare o a Zeus a chi per lui di lanciare fulmini sui peccatori siamo degli stupidi o siamo peggio ancora in malafede di un paese di un paese di un paese